ciao ragazzi grazie per essere venuti non so mai ragazzi a tutti ci vediamo dopo ciao auguri auguri tanti auguri sposi e che dire un caloroso auguri a questi grandissimi sposi ciao ragazzi volevamo farvi i nostri più cari caldi e tutto quello che ci viene vicino di auguri ma pure femmine vanno bene mi raccomando nella luna di miele divertitevi ciao Enzo ciao Tina auguri di buon matrimonio Daniela stava col piede un po fatta male però siamo uniti lo stesso apposta per onorarvi in questo giorno felice auguri per 5 anni 100 anni 100 anni auguri ciao come sei una fornuta il cammino rimani un po' solo per me fatica Maurizio dai un applauso alla sposa cosa attenzione a stasera ci sono pericoli la sposa stasera cosa attenzione a stasera quanta cosa succede stasera quanta cosa succede ehhh guardiamo il fatto che sono 3 cretine bravi grazie ammi buoni il palaclietto come sei? come sei? come sei? vai danza stanotte? si fanno i guai e figli di tonne siamo qui riuniti oggi 30 giugno 2013 il mio compagno? e anche il compagno di questo osce qua siamo per gli sposi i nostri carissimi amici che meritano questo e altro questo e altro auguri di vero cuore e per la serie vincenzo game over auguri bacio 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 bene auguri ragazzi vi auguriamo tanta felicità come la stiamo vivendo in questo momento ok saluta enzettina ai figli e femmine saluta enzettina ciao che ci fai qua? tu devi pigliare tutta cosa tu qua qua c'ho la telecamera tu l'ho visto? auguri a enzettina enzettina per una vita lunga serena e ricca sopra te auguri da parte di sekerbull ma la mia no da parte di antonio mancaniello che ti manda tanti saluti sopra tutto e tantissimi auguri a te e tua moglie eh vengo alla tua moglie cap 100 anni Enzo Enzo ricordati forza Napoli sempre 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 Napoli 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 per cento anni poi hai una persona da mantenere tua moglie quindi ti devi lavorare di più e mi raccomando fai inserlo al prossimo matrimonio non farmi sentire vicino a lui perché è ben sopportabile Uba la salute del grande fratello ciao ciao ragazzi sposi allora allora prima il momento di serietà serietà allora che dobbiamo dire? a questo giorno siete arrivati e contenti ve ne andate tanto sesso dovete fare quello di serietà col preservativo dovete usare il viaggio di notte vi dovete godere Maria ha bevuto un idro di giro il viaggio di notte vi dovete godere quello che ti ho spiegato io e un regalo ci dovete portare tanti auguri a voi 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 ragazzi al di là di tutto vi vogliamo tanto bene e davvero vi auguriamo tanta felicità ciao ciao Enzo tanti auguri grazie Anna e tu ciao ciao poche parole semplici per voi sposi oggi vi auguro solo che le cose più belle da fidanzati possono essere quelle più brutte da sposati tanti auguri e un bacio da gennazio sposi divertitevi al viaggio ma non fate troppo puntini 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 manco c'era che ha di me ci manca l'aria vince qui dentro tantissimi auguri a tia e tina e tua moglie è un'idea molto molto particolare per staccare i video box spero che non sia una trappola che riusciamo a città bravo complimenti tanti dati auguri e ci vediamo poi a settembre su Rai2 ciao il 9 settembre auguri 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 a Vincenzo e a Tina auguri ciao auguri buonasera buonasera ma si può parlare? tantissimi auguri tanti auguri agli sposi ciao bocca al lupo che dire di questi giochi oggi è una bella giornata effettivamente per Enzo per Tina per noi per la famiglia per gli amici per tutti perché il matrimonio è il giorno più bello della propria vita auguri e buon viaggio e poi basta ciao ragazzi ci si facendo ha fatto una fine tipo di città no è un po' che siamo qui 5 minuti in settimana non ne siamo passati e e con una tessanella sono venuta e un po' bella e fatti da fatti e botta sua tattina e het non puoi trascere non puoi trascere è che stiamo E' no, e' no! Ah, frate un bello! E' che ti ha fatto il pelo! Mi hai detto che ho il capello, chi ti ha fatto? Mi hai detto che ho il capello e voglio sapere chi ti ha fatto! Ma non è che ti arriva un picco di coppa di loro! Vabbè, auguroni Enzo e attento moglie. E niente, non ne pensate. Tutto bello, tutto bello con il mio dopo. Ciao Giovanni, ciao auguri! Ma mi dici ciao zia, ciao zio, auguri! E va, saluto! Ciao! Tanti auguri allo sposo e a mia figlia, per cent'anni di felicità! Grazie! Super, è finuta, sì! Tanti auguri! Ciao! Io quando ero piccolina c'è sempre addestriata! Ma me l'ha fatto con te! Speranza, sei stata nominata! Super! Già sei operativa, perfetto! Allora io sono qua a dire che cosa? Faccio gli auguri a Tina e a Enzo, però... Io ve lo dico signori! Allora Tina io ti amo! Lo so che non devo dirlo qui nel video messaggio, però... Devo dire che... Quella notte eri stupenda! Sto scherzando, se no Enzo te lascia! Sto scherzando, Enzo non è vero ragazzi! Tantissimi auguri! Ciao Tony figo! Sbosi! Auguri! Agurì! Ciao! Ciao! D'Ambrosio i fotografi! 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 Ciao Enzo, ti salutiamo! Ciao, ciao! Ti salutiamo adesso! È un buon proseguimento! Non ci vediamo più! Un bacio! Allora, grazie di essere venuti qua stasera Pensavate che non sapevamo tutto quello che avete detto Ma andrei in onda tutto Quindi sapranno tutti quello che avete detto Buono o brutto Ciao, grazie a tutti Enzo, fai il bravo, se no hai letto tutto sul culetto